Proprio nel tema del fatto della cosa informale, io faccio un pezzo che non ho mai fatto dal vivo, che non sta nemmeno in nessun disco. Allora, a ognuno di noi quando si va a scuola insegnano molte cose che a torto noi riteniamo brutte, proprio per il fatto dell'obbligo a cui siamo sottoposti. Allora, questa cosa che faccio adesso è una delle cose che faccio per divertirmi, si chiama, beh no, non si chiama, dunque è una poesia di Dante Alighieri, allora è beneficio di inventare. Tanto gentile e tanto onesta pare La donna mia quant'è l'altro vuoi saluta, con i boccati entremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardar. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'unità vestuta, parche sia una cosa venuta, di cielo e in terra miracolo mostra. Mostra sì sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuor, che intendere non la può, chi non la prova, e parche dalla sua labbia si muova. Uno spirito suave e pieno d'amore, che va dicendo all'anima sospira. La donna mia quant'è l'altro vuoi saluta, con i boccati entremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardar. Grazie.